Buonasera a tutti e benvenuti alla night session di sabato 2 aprile. Sono le 23.50 e sarà l'undicesimo o la dodicesima analisi che registro e che non mi convince, per cui aspiriamo alla perfezione e riproviamo anche con questa. Allora, prima di tutto farei una premessa. Una premessa dovuta perché lo ripeto in ogni singolo video, penso, o quasi, ma non è ancora entrato nella testa delle persone. Il concetto che vorrei che si inserisse e si fondesse al vostro DNA è che noi, che utilizziamo l'evoluta, e che utilizziamo quindi un metodo statistico-matematico, non discrezionale, delle opinioni, soprattutto di persone poco autorevoli o che hanno appena iniziato a studiare la ciclica neanche l'evoluta, non interessa assolutamente niente. Le opinioni non servono a niente. Sono come il sentiment. Potete andare a verificare i vari studi che sono stati fatti anche nelle migliori università sia italiane che straniere. Si arriva sempre allo stesso risultato. Il sentiment non serve a un tubo. A niente di niente. Le balene non servono a niente. Ribadisco, le opinioni non servono assolutamente a niente. Frasi come secondo me, io penso che, voi che ne dite, non servono a niente. Perché Bitcoin e le criptovalute non si muovono con i se, con i ma, con i forse, con i io penso. Queste sono opinioni, non servono a nulla. Si muovono con altre cose. Volumi, ciclica evoluta, gun, swing, tempo. Quindi, vorrei essere sicuro di aver reso il concetto, perché forse non ho ancora detto. A noi delle opinioni non interessa nulla. Se volete esprimere opinioni, andate in televisione ai talk show, ok? Gli opinionisti hanno autorevolezza zero su questo canale. arriviamo alla parte tecnica. Da qui manca una delle condizioni per dire che sta partendo un T settimanale, un nuovo ciclo settimanale. Però, stante il tempo ormai scaduto per quanto riguarda il precedente T settimanale, anche se non è stato ancora violato lo swing corretto, possiamo dire che siamo rimasti per adesso sopra questo minimo per 58 barre. Quindi abbiamo la condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente per la partenza di un nuovo T settimanale, anche se ho ancora lasciato T-1 per sicurezza. E se andiamo a fare tutti i controlli che si possono fare, possiamo dire con certezza che da qui a qui abbiamo avuto 28 barre, quindi c'è anche qui la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del primo T-3. E qui siamo arrivati a 44 barre. E quindi? E quindi, invece che esprimere un'opinione su se sia partito da questo minimo o da questo minimo, il secondo T-3, qui o qui, che cosa facciamo? Facciamo quello che fa un analista e un trader serio. Zero opinioni, non so se ve l'ho già detto, zero opinioni, ok? E applicazioni delle regole. Qui abbiamo le due condizioni per la partenza del secondo T-3? Sì. Nessuna opinione, solo applicazione di metodo e regole. Ce l'abbiamo. da qui ce l'abbiamo? Uno, due, tre, quattro, eh! Smozzicata la quinta candela, che se fossimo in un trend estremamente ribassista potrebbe starci come partenza, ma invece non ci sta. Quindi non è un'opinione. Secondo me il secondo T-3 è partito da qui invece che da qui. No, 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 no. Le opinioni non servono a niente. Serve controllare che con le regole date, da qui c'è la certezza che sia partito il secondo T-3. Da qui non c'è nessuna possibilità che sia partito il secondo T-3 a meno di robe stranissime, ok? E non è un'opinione. Da qui, da questo minimo, per adesso abbiamo cinque candele sopra il minimo stesso, ma non abbiamo violato lo swing a 46482, che serve a dirci che effettivamente da qui può essere partito il terzo T-3. Avremmo ancora tempo teoricamente per scendere? Sì, e come? Perché visto che il secondo T-3 si è vincolato a ribasso, noi siamo arrivati soltanto a 25 barre qua, ovvero una barra in più rispetto alla minima, e qui siamo a 30, ma noi potremmo continuare serenamente a scendere fino alla quarantaquattresima barra, ovvero fino alle 10 e un quarto di domani mattina. E non è un'opinione, eh? Sono sempre quelle regole lì di cui parliamo, che sono l'unica cosa che va seguita. L'unica. Le regole. Non le opinioni. Le opinioni non servono, sono perdita di tempo, come il sentiment, le balene e tutte le amenità da parco buoi. Voi siete trader o siete buoi. Bovini. Qui di bovino. Chiedo per sicurezza perché. Chi esprime un'opinione? Boh. In base a che autorevolezza le esprime soprattutto. Perché parla invece di ascoltare? La prima regola nel gruppo premium è che bisogna ascoltare. Perché ascoltando e leggendo, l'unica chat che va seguita, ovvero l'unica stanza che va seguita, quella che si chiama Bitcoin si sa che cosa bisogna fare. Il resto non serve a niente. Lo ripeto per sicurezza. Nel gruppo premium c'è una stanza che si chiama Analisi Bitcoin. Se volete solo fare trading sul Bitcoin, lavorare su Bitcoin, quella è l'unica stanza che serve. Le altre non servono a niente. Purtroppo in questo momento il livello è troppo basso per crederci. Perché ribadisco non si riesce neanche ad arrivare a interiorizzare la regola numero uno. Hai esperienza? No. Sei qui per imparare? Sì. Perfetto. Come in qualsiasi altro luogo, università, posto di lavoro e altro, facciamo una cosa. Sta in silenzio e ascolta. Ascolta il più possibile, assorbi il più possibile. Solo dopo un po' di anni di esperienza parli. Ok? Non servono le opinioni. Non mi ricordo se l'ho già detto effettivamente questa sera. L'ho già detto che le opinioni non servono niente. Che secondo me siamo arrivati qui, però potrebbe essere così, però potrebbe anche nevicare rosso domani. Però potrebbe cadere una cometa. Questo è il livello delle opinioni, ok? Non servono a niente. Quindi per favore, non esprimetele su questo canale. Per il resto, come detto, se avremo questa violazione, avremo una conferma di partenza. Il terzo t-3 inverso ci dirà se ci vorrà essere tutta la spinta per seguire il Golden Cross e tornare qui sopra. Sopra, come minimo, al massimo a 46.933 dollari. In realtà dovrebbe andare qui, ma questa è una spike, ok? Finché non ci sarà un fixing, che dovrebbe arrivare tra poco, delle criptovalute, bitcoin in primis, non avremmo dei dati tra virgolette ufficiali. Qui abbiamo quelli di Bitfinex, ci sono quelli di Kraken e tutto il resto, ok? Quindi è ancora aleatorio, è ancora cerbo il mercato. Servirebbe un fixing. Dato che non ce l'abbiamo, la condizione sufficiente per la chiusura di un T inverso e una ripresa dalla discesa è data appunto dal superamento. O di questo massimo a 46.933, in realtà sarebbe meglio andare persino qui sopra, questa spike, a 47.240 dollari. Per cui, questo è ciò che si vede a livello di regole e a livello di metodo chiamato analisi evoluta. Le opinioni a noi non interessano, tutte le altre opinioni non contano niente, quindi non le tiriamo fuori. Facciamo una cosa, se bisogna imparare l'evoluta, silenzio e eventualmente domande tecniche, va bene, tecniche però. Non opinioni, perché non servono a niente. Non instant poll. Secondo voi dove siamo arrivati? Conta le candele invece che dire secondo voi. Contale tu. Prenditi la responsabilità tu di contare le candele e di direci dove siamo. Non esprimere opinioni. Conta le candele. Controlla gli swing. Ricordati se le condizioni sufficienti e necessarie per far partire un t-3 o qualsiasi altro ciclo ci sono. Prenditi questa responsabilità, altrimenti non parlare, perché non serve a niente. Si confonde soltanto il resto della gente che magari fa un commento, magari vuole chiedere qualche cosa di più interessante di una semplice opinione. Qui ricordiamoci che è chiuso un t-2, ok? E da qui potrebbe partire un nuovo t-2, un altro ciclo a due giorni. Ed è per quello che ribadisco. Ricordiamoci della condizione necessaria e sufficiente per chiudere questo t-inverso e per riprendere la discesa. Perché qui abbiamo fatto un bello strappo verso il basso, che però poi è stato parzialmente recuperato, ma non totalmente. Quindi, per quanto riguarda l'analisi anche sul grafico giornaliero vi mando a domani. E ricordo a tutti quelli che sono su questo canale che, se dà fastidio il fatto che ribadisco a determinati concetti come le opinioni, come tante altre cose, non farsi truffare, eccetera, ecco, dato che a noi non interessano le opinioni, voi potete anche non esprimerle. Perché intanto a noi non interessano. Se vi dà fastidio che questa parte sia troppo lunga, sinceramente è un'opinione. C'è chi le aggradisce, c'è chi non le aggradisce. È un'opinione. Ok? E sapete cosa ci interessa delle opinioni qui? Non vi piace come viene fatto il video, la struttura, quello che volete? Siete liberissimi di andare da un'altra parte. Potete tranquillamente farvi prendere in braccio dai fuffrologi, dagli youtuber che contano più sulle visualizzazioni e della monetizzazione che il resto, quelli che vi dicevano che si andava to the moon a 95.000 a Natale, giusto? Mentre io a novembre vi dicevo che si andava a scendere. Potete andare dove volete. Vi chiedo solo una gentilezza. Non vi piace qualche cosa qui? Ok. Ce ne siamo già fatti una ragione. Non ci interessano le opinioni. Farò un video in cui segnalerò soltanto che le opinioni non ci interessano. Vediamo che cosa succede. A un certo punto la smetterete di pensare a voi stessi in maniera egocentrica e magari vi ricorderete che questo canale, anche se prettamente gratuito, fa guadagnare tante persone. E c'è un vecchio detto che mi ricordava sempre mio nonno, poi è iniziato a ricordarmi mio padre, mia madre, eccetera. A cavaldonato non si guarda in bocca. Buona serata a tutti. Ribadisco, oggi è sabato, anzi è già domenica, mezzanotte 02 e sto lavorando gratis per chi ascolta. O c'è rispetto o c'è ban. Semplicissimo. Buona serata.